carlotta asmr ciao a tutti come state? bentornati o benvenuti sul canale in questo nuovo video che sarà un video semplice in cui vi parlerò principalmente di due cose molto importanti che riguardano sia me sia il canale sia soprattutto voi che ho bisogno del vostro aiuto e farò del brushing molto semplice così per rilassarci insieme e per dirvi queste due cose dunque la prima cosa riguarda sono entrambe due idee che ho avuto e per la realizzazione della seconda ho bisogno di voi altrimenti non potrò realizzarla ma è qualcosa di particolare e piacevole non è un impegno pesante quello che vi chiedo anzi penso vi divertirete molto invece la prima riguarda sempre il canale e voi ma da un punto di vista diverso in modo passivo diciamo mentre appunto la seconda in modo attivo vi coinvolge in modo attivo da un punto di vista attivo quindi il tutto è nato su instagram ma entrambe le mie idee sono nate su instagram però quella che vi coinvolge non riguarda instagram anzi la realizzazione finale riguarderà youtube non instagram ma basta adesso con gli accenni entriamo nel dettaglio intanto rilassatevi ma tutte le informazioni di ciò che vi sto per dire ve le scrivo qui sotto il primo la prima idea che ho avuto è stata quella di dedicarmi ai colori e alla smr su instagram già un paio di anni fa facevo quelle che ho chiamato le storie colorate cioè mi dedicavo ad un colore e sviluppavo diversi trigger con oggetti di quel colore e beh adesso sto facendo ogni lunedì alle 14 un post dedicato ad un colore ed un trigger e per tutta l'estate vi accompagnerò con questo post quindi tutti i lunedì e ci tengo ad avere la vostra opinione in merito diciamo che molti di voi mi hanno chiesto spesso di riprodurre in qualche modo le storie colorate e questa è l'idea che ho avuto quindi seguitemi mi raccomando secondo motivo per seguirmi ma comunque ora ve lo sto dicendo anche qui voglio realizzare un video grazie ai vostri video che significa che ho avuto quest'idea non so se qualcun altro nel mondo smr abbia avuto un'idea simile ma non mi interessa perché io ce l'ho avuta così per il puro caso dunque siccome quest'anno abbiamo tutti bisogno di vacanze e molti di noi non ci andranno oppure andranno magari solo in un posto ho deciso di unire vacanze bellezza ed smr ma mi serve il vostro aiuto se volete potete inviarmi o in direct su instagram o via mail l'indirizzo lo trovate qui o magari ve lo scrivo uno o più video delle vostre vacanze però che sia smr quindi magari e che sia possibilmente in orizzontale il video quindi magari non so siete in riva al mare e riprendete il mare con il suo suono che non ci sia chiasso però mi raccomando oppure sono validi anche gli animali oppure non so andate a fare una scampagnata quindi il suono degli uccellini tra gli alberi o le vostre scarpe che camminano lungo un sentiero di montagna o ancora non lo so c'è una ragazza che mi ha inviato il suono delle sue mani sul lettino da spiaggia voglio poi unire il tutto per farci un video quindi i protagonisti sarete voi e sarà un bel modo di chiudere le vacanze perché voglio pubblicarlo a fine estate quindi fino al 31 agosto c'è tempo per inviarmi i vostri video io la trovo un'idea carina ma è un modo per farvi creare dei contenuti smr e rendervi partecipi ed anche per mostrare dei bei posti di vacanza e non solo a persone che magari non potranno andarci perché parlavo di animali perché non so magari la vacanza mi ha inviato il video del suo animaletto che mangia e va benissimo se riuscite però a trovare un nesso con le vacanze non so magari due cavalli guardate due cavalli mentre siete in vacanza o in un posto che non vi è solito insomma un po' insolito per voi sarebbe perfetto e comunque vi scriverò tutte le informazioni per quest'idea per realizzare questo video per aiutarmi a realizzare questo video qui sotto come sempre e niente quindi spero aderirete in molti in generale comunque vi consiglio di seguirmi su Instagram perché sono molto attiva e a differenza di YouTube è un modo per stare in contatto e sapere sempre cosa accade sul canale o se ci sono cambiamenti novità e molto spesso magari faccio domande o sondaggi e poi per ricordarvi i video questo è chiaro mi piace molto Instagram come social a differenza di Facebook che non mi sta piacendo più l'ho tolto Facebook del canale da tanto tempo mi piace a parte per le foto che si possono pubblicare ma soprattutto mi piace per le storie anche se io non ho non possiedo un profilo Instagram privato non mi interessa pubblicare foto di me in privato cioè l'utilizzo solo per il canale ma ho un profilo Facebook privato non so quando uscirà questo video ma una cosa è certa tutti i video che vedrete quest'estate io li ho registrati prima del 6 luglio perché poi sono partita cioè partirò perché sono ancora a casa e non ci sarò per ben due mesi quindi ho registrato tutti i video prima di partire per non lasciarvi senza ci tengo molto e potevo tranquillamente farne a meno ma no mi dispiaceva troppo quindi farò delle vere e proprie vacanze pure senza smr penso per la prima volta in assoluto perché l'anno scorso anche l'anno scorso avevo preparato i video in precedenza ma lo ricordo penso di averne preparati molti non non ho fatto il tour de force che ho fatto questa volta però non è stato uno sforzo per te tour de force per modo di dire ma qualcosa che amo talmente tanto fare che non è non è uno sforzo è un piacere per me penso anche che quest'anno sfrutterò tantissimo la treccia che ho sempre amato non c'entra niente sto pensando al caldo all'estate perché è comodissima e soprattutto tiene i capelli sempre in ordine un po' io adoro le trecce temo di sentire le campane in lontananza spero di no direi quindi che per questo breve video è tutto vi mando un grandissimo bacio e vi dico quindi a prestissimo ciao ciao ciao